Buongiorno Arturo, buongiorno Beppe, buongiorno a tutti, grazie, mi sentite? Sì, perfetto, la domanda è questa Beppe, buongiorno, vorrei capire se in questo periodo tu hai lavorato e stai lavorando più sulla testa dei giocatori o più sulla parte tattica perché vorrei capire dov'è che ha più bisogno la Fiorentina per salvarsi naturalmente, grazie Giuseppe Buongiorno, beh no, siamo su tutte e due le cose perché ovviamente dopo cinque mesi di non stando insieme magari è normale che si dovevano ritrovare alcuni meccanismi, alcune cose a cui soprattutto la linea difensiva, i difensori erano abituati e nello stesso tempo in virtù di quello che era un po' la testa poi dei ragazzi come si sono ritrovati con preoccupazione, più pressione, più tensione, è chiaro che andava un attimino poi accorciata la squadra, andava fatto un lavoro anche psicologico perché avevo notato che insomma quando c'era un piccolo, un mezzo episodio prendo ad esempio la partita di Sassuolo dove abbiamo fatto un'ora di partita giusta, perfetta, ben giocata abbiamo creato diverse opportunità per andare anche sul 2-0, c'è stato un pallo anche che ce l'ha impedito nel primo tempo, nel finale primo tempo, poi come c'è stato in un minuto, due episodi, due rigori in un minuto e mezzo che hanno cambiato poi il finale di partita e questo ovviamente fa presagire come avevo notato anche all'inizio insomma un po' di tensione, mi auguro che questi risultati che abbiamo fatto nelle ultime settimane, le prestazioni, possono sicuramente hanno dato ai ragazzi ancora più fiducia, ancora più tranquillità per poter andare a affrontare un finale di campionato importante che ci aspetta e in questo senso dobbiamo prepararne una alla volta cercando di andare a lavorare e migliorare come si sta facendo partita dopo partita sotto l'aspetto del tattico, dell'organizzazione, sotto l'aspetto ovviamente del sapere anche affrontare nel corso della partita e gestire situazioni che possono non essere anche positive perché poi il calcio è fatto di momenti nella partita giusti, in qualche momento magari puoi partire un po', ma l'equilibrio che dobbiamo avere, che si deve avere di squadra è sempre quello, il tenere per 95 minuti la stessa attenzione, la stessa concentrazione, le stesse linee di gioco, la stessa intensità e applicazione, in questo la squadra sta crescendo e dobbiamo continuare a battere il ferro lì. Giovanni Sardelli Salve mister, buongiorno, chiedo se in virtù anche degli ultimi risultati secondo me si è alzata la quota salvezza, è chiaro che fare i calcoli non è mai il massimo, però si possono bastare 4 punti, davvero bisogna arrivare a 40, cioè se comunque il fatto che alcune squadre stiano vincendo ha alzato la quota salvezza o il fatto che molte altre siano rientrate, lo spezzo del Benevento invece è una notizia positiva. Guarda, sotto questo aspetto, ma l'ho sempre fatto, non qui ora in questo momento e lo dico sempre alla squadra, guai a soffermarsi a fare calcoli, guai a pensare agli altri, guai a pensare a quello che si deve fare o non si deve fare, bisogna andare in campo, preparare una partita alla volta e cercare di portare a casa il massimo che possiamo da ogni partita, fare di tutto per 95 minuti per fare una prestazione giusta, importante sotto l'aspetto tattico, dell'organizzazione, della mentalità, dell'atteggiamento, della concentrazione, perché il particolare adesso, soprattutto in un finale di campionato, può essere ancora più determinante, quindi senza far calcoli, senza pensare se ci servono tot punti oppure non ci deve interessare, quando fai queste cose poi non ti riportano mai e quindi devi pensare solo ad andare in campo, fare prestazioni importanti, i ragazzi sotto questo aspetto è già da qualche settimana, da quando sono arrivato che batto sotto questo aspetto per cercare di non farli andare a pensare, a preoccupare o a prendere discorsi strani, dobbiamo andare sul campo e da ogni partita portare a casa il massimo che si può e in questo senso ci dobbiamo preparare. Mi ha fatto molto piacere all'inizio di questa settimana il fatto che i ragazzi mi hanno chiesto di poter andare insieme in ritiro a preparare insieme un giorno prima la partita, questo vuol dire che ci si tiene, vuol dire che c'è passione, c'è voglia di far bene, c'è voglia di preparare bene questa partita di Bologna dove ci aspetta un avversario ben allenato, organizzato, con Sinisa che ha fatto in tre anni un grandissimo lavoro, ci sono giocatori di grande qualità in tutti i reparti e quindi bisognerà fare sicuramente una grande partita e quindi in questo senso, ripeto, ci stiamo preparando e i ragazzi mi ha fatto piacere che siano stati ben predisposti a proporre questo ritiro anticipato perché vuol dire che si vuole approcciare la partita nella maniera anche adeguata a quella che è la forza dell'avversario che andiamo a affrontare e soprattutto la partita in in sé per sé come importanza. Ciao Beppe, buongiorno, quindi allora da stasera siete in ritiro? Sì, esatto. Ecco, bene, perfetto. Partite, vi allenate domani a Bologna? No, no, lo facciamo qui, lo facciamo qui, abbiamo le nostre cose a tempo e poi domani... No, no, lo pensavo in parte che si è parte in parte. No, facciamo allenamento qui e restiamo qui in ritiro, poi dopo da domani mattina si alleniamo e poi partiremo nel pomeriggio domani. Bene, perfetto. Allora, vabbè, questa era una parentesi. Senti, però la partita di domani, la partita scusami di domenica, questa trasferta di Bologna può essere però decisiva e affrontata in maniera tale che appunto, visto anche quello che ti hanno chiesto i giocatori, c'è un po' una gara spartiacque, proprio in previsione la salvezza, in virtù della situazione... A Bologna hai iniziato la tua avventura, quindi con la Fiorentina del gennaio 2020, ecco che cosa c'è in questo anno e mezzo particolare, se c'è qualcosa che hai imparato, qualcosa che... Va bene, ma... Non ricordo qualcosa. No, ma diciamo che ecco, un po' di similitudini che ho trovato lo scorso anno quando sono arrivato la stessa, diciamo, pressione, tensione, no? Qualche timore di troppo, che non aiuta a sviluppare bene, a fare bene le partite, non aiuta a poter scendere in campo con quella giusta serenità che serve per fare partite importanti. Ora ci stiamo scrollando di dosso questa cosa qui, che non deve essere nostra e quindi ci stiamo lavorando sopra, sia a livello per dare maggiore e ancora più forza al progetto tattico, all'organizzazione di gioco, nei movimenti, nell'andare a riconoscere determinate situazioni tattiche che possono far entrare i ragazzi in campo ancora più convinti, ancora più concentrati, determinati nelle letture, nelle situazioni singole che si presentano nel corso di una partita. E nello stesso tempo, a livello psicologico, nel sapere andare a cambiare le sorti delle partite senza mai rinunciare, senza mai essere, diciamo, tra virgolette, no? Vittime anche di episodi magari sfortunati a volte o negativi che possono capitare. La squadra l'ha fatto bene dopo l'Atalanta sul 2-0, è andata a rimontare la partita contro una squadra forte che gioca insieme da cinque anni, 2-2, poi un rigore ci ha impedito di poter fare un ulteriore, provare anche a vincere, poi di partita in partita certe cose si sono viste sempre migliorate e quello deve essere nel nostro DNA, lo dobbiamo far nostro da qui alla fine del campionato, prendendo una partita per volta e facendo il massimo. Poi è chiaro che questo lavoro che i ragazzi stanno portando sul campo dovrà portare di conseguenza prestazioni e continuità dei risultati e quindi in questo mi aspetto sempre grandi risposte da parte di tutto il gruppo, da chi parte, da chi entra e andare forte perché questo è un momento per tutte le squadre e ovviamente anche per noi importante del finale di campionato dove, come dicevo prima, non c'è da far calcoli ma c'è solo da approcciare bene alle partite e essere determinati e determinanti in ogni secondo della partita fino alla fine. Ilaria Masini. Sì, buongiorno. Le volevo chiedere che Bologna si aspetta, quanto cattivo, anche quanto ferito dal 5-0 con l'Atalanta. Grazie. Già nella domanda insita la risposta. Quindi in più conosciamo la squadra del Bologna, come dicevo prima che è una squadra di ottima qualità in tutti i reparti, davanti hanno giocatori importanti che possono risolversi le partite con una giocata perché hanno tattica individuale importante e una squadra allenata molto bene da Sinisa in tre anni e ne ha fatto un giocattolino molto interessante, bello insomma e quindi bisognerà essere sempre attenti, concentrati, partire bene, giusti, essere organizzati e attenti per 95 minuti e fare la nostra partita come la stiamo preparando nelle due fasi, nella fase difensiva e nella fase offensiva nella maniera giusta, adeguata per poter essere anche noi poi ecco incisivi e pericolosi. Gian Paolo Marchini. Buongiorno a tutti, buongiorno Beppe. Senti, rientra Buonaventura e quindi probabilmente qualcuno del centrocampo deve restare fuori. Ecco, in questa ottica chi è che ti può dare maggiori garanzie a uscire dalla panchina? Ad esempio Castrovilli quando non è entrato nei primi undici, poi è entrato in campo e ha dato di fatto una svolta alla partita. Quindi ci sono dei giocatori che possono avere caratteristiche di questo tipo, cioè di essere capaci di non avere cali di concentrazione e essere già inseriti nel prima partita. Farai anche un ragionamento tenendo conto di questo aspetto? Di tutto, sì, ti racconto di tutto. Vediamo singolarmente anche come sta, come si arriva alla fine settimana individualmente a livello fisico e poi ci saranno valutazioni di questo tipo perché in ogni partita ci sono diverse partite, vanno interpretate, vanno lette e vanno poi determinate sia dall'inizio che in corso e quindi in questo senso è determinante chi parte, è determinante anche chi arriva. Però Gaetano ha fatto molto bene, aveva fatto anche molto bene a Sassuolo, a Genova, dove ha preso un palo a Sassuolo e poteva essere il 2-0 per noi. Quindi sta facendo bene, magari sta convivendo con un problemino che si sta portando avanti a livello fisico magari da qualche tempo, però in questo senso per noi è un giocatore importante e quindi vedremo in questi ultimi due giorni poi all'avvicinamento di gara come sta andando soprattutto a livello individuale e fisico e poi si sceglierà l'aspetto anche di conseguenza anche come partire. Però, ripeto, qui non si parla più dell'io, tizio o giocatizio o giocacaio. Tutti sono determinanti, tutti i ragazzi sono importanti, è quello che ho espresso da quando sono arrivato e da tutti noi ci aspettiamo il 100 per 200 perché è chiaro che in questo momento del campionato finale, come in tutti i finali di campionato, le partite si accorciano, sono sempre meno e quindi bisogna essere determinati e determinanti nei 95 minuti a prescindere da chi va dall'inizio e da chi subentra. Tommaso Loreto Salve mister, buongiorno Misette Buongiorno, sì sì, bene Volevo capire se in questo finale di stagione Cocorin e Malquit potranno essere elementi da utilizzare e che tipo di apporto si aspetta da loro? Grazie Allora, per quanto riguarda Cocorin non si è ancora allenato con me da quando sono arrivato, quindi ha avuto questo problema e quindi ancora non l'ho potuto vedere disponibile in campo, ecco che non si è mai allenato con noi, con la prima squadra, ha sempre avuto il suo programma differenziato fisioterapico e quant'altro di lavori con i preparatori e quindi non so quando definitivamente potrà tornare o in parte tornare ad allenarsi con noi, stanno facendo degli accertamenti ancora ulteriori, poi si vedrà. Per quanto riguarda Malquit, è un ragazzo su cui stiamo lavorando, a margine di miglioramento sotto tutti gli aspetti, veniva da un periodo dove non aveva mai giocato e quindi in questo senso può crescere sia sotto l'aspetto tattico, sotto l'aspetto delle conoscenze, della partecipazione e dello spirito col quale insomma c'è da giocare in queste ultime partite, quindi si è parlato con lui, si sta cercando sia di stimolarlo sia di portarlo a conoscenza a livello tattico di situazioni dove lui può andare a darci anche lui una mano in questo finale di campionato. Andrea Giannattasio. Sì, mister, buongiorno, salve, bentrovato. Volevo chiederle di fare un punto della situazione sui giocatori un po' acci... Si è rimasto bloccato. ...ciaccati, non so come sta avvenuto, un po' affaticato dopo la Juve e se ne va di spendere un pensiero... se ne va di spendere un pensiero per la primavera che ha vinto il secondo trofeo nel giro degli ultimi otto mesi, lei spesso ha portato in prima squadra anche dei ragazzi o soltanto per l'allenamento, ecco se vede qualche talento da poter... che può essere utile alla causa viola anche nei prossimi anni, grazie mille. No, i ragazzi stanno riprendendo, stanno facendo il loro lavoro, anche Lollo, venuti, quindi vediamo in questi ultimi giorni, però si sta riallenando con i compagni e quindi verificheremo in queste ultime due seduzze di allenamento come sarà la condizione individuale di alcuni. Veniamo da tre partite, quindi c'è da prendere con attenzione anche questo particolare che non è un dettaglio. Poi per quanto riguarda la primavera sono molto contento perché quando vince la Fiorentina sono contento a prescindere, poi se lo facciamo dalla prima squadra fino all'ultima squadra del settore giovanile è sempre molto bello e quindi sono contento per Alberto Aquilani col quale ho condiviso una bellissima parentesi lo scorso anno insieme in prima squadra e quindi per la società, per i ragazzi e da quando sono tornato come facevo prima sono sempre venuti ad allenarsi con noi dei ragazzi della primavera e quindi ci sono dei ragazzi interessanti che possono crescere, possono ancora maturare e possono essere magari nel proseguo della loro carriera a giocatori che potranno dare una mano anche alla prima squadra. In questo senso già lo scorso anno nei finali di campionato hanno esordito delle mura, hanno esordito il portiere, hanno esordito insomma dei ragazzi con me lo scorso anno, quindi mi auguro di poter dare soddisfazione anche a loro, a qualcuno di loro anche nel finale di campionato. Però prima c'è da pensare alla squadra, a quello che siamo noi, siamo felici per la primavera e quindi aspettiamo perché poi il futuro della Fiorentina passa anche attraverso un settore giovanile di prospettiva. Matteo Dovellini Buongiorno mister, io invece le volevo chiedere di quarta, che momento sta attraversando il difensore anche perché a volte lei comunque anche ultimamente insomma gioca magari con Caceres dietro, magari poi lo sposta più avanti, con Igor anche no? Igor che comunque contro la Juventus ha fatto una grande prestazione. Ecco, è un fatto di condizione fisica quello di quarta o in questo momento lei è più sicuro, più rassicurato magari dall'impiego di un Igor in quella faccia lì? Grazie. No, no, diciamo che stiamo lavorando, perché come giù è normale che sia. Noi siamo una squadra, per quello che vedo io, la linea difensiva come deve lavorare, in Serie A se siamo molto bassi e dentro l'area di rigore rischiamo di andare troppo nella nostra tattica individuale e quindi alziamo le percentuali degli avversari. Lavorando di reparto, lavorando di linea, di organizzazione, di fuorigioco, di accorciare i tempi e gli spazi agli avversari, è chiaro che in questo senso Cino, quarta, nello specifico, visto che mi fai la domanda, ovviamente rispetto a tutti gli altri compagni ha perso un po' di lavoro perché cinque mesi io non ci sono stato, era appena arrivato subito, all'ultimo giorno di mercato ha fatto appena un mese di lavoro con noi, con me e poi dopo ovviamente le cose possono, giustamente come è normale che sia nel calcio, cambiano, si evolvono e si gioca con un altro modulo, si gioca in un'altra maniera, in altre situazioni e quindi per quanto mi riguarda il lavoro della linea difensiva, della fase difensiva, per le caratteristiche dei nostri anche difensori e per come eravamo abituati, visto che ci aveva portato ad essere la miglior difesa del campionato nel finale, dopo il lockdown dello scorso anno, abbiamo ripreso a lavorare su certi meccanismi, su certe situazioni di lettura tattica e quindi in questo senso magari Cino sta lavorando, ovviamente deve lavorare, stiamo lavorando più degli altri che con gli altri perché ovviamente magari nel passato, lo scorso anno, nello specifico ovviamente non ci abbiamo potuto lavorare molto insieme e quindi non abbiamo potuto farlo e lo stiamo portando avanti, sta migliorando molto, sta crescendo ma non è che abbia qualcosa in particolare, sta solo cercando di ritrovare, questo è assolutamente a livello fisico niente, è solo una situazione di lettura di reparto nel contesto della squadra appunto e quindi continueremo a lavorarci, come abbiamo fatto, giocatore importante per noi come tutti i suoi compagni, come Igor, come gli altri del reparto. Marco Dell'Olio. Sì, ciao Beppe, ben trovato, la domanda è sulla condizione fisica perché solitamente insomma quando si decidono i campionati, anche le salvezze, chi sta meglio dura di più e va più lontano, la sensazione è che la Fiorentina stia molto bene da questo punto di vista, i test dicono questo? Sì, sì, dicono questo, la squadra l'abbiamo ritrovata bene fisicamente, senza alcun problema, quindi no, è chiaro, domenica la terza partita, negli ultimi 20 minuti non abbiamo con la Juventus e questo mi è dispiaciuto un po', non abbiamo avuto più quella forza, quella intensità, quella gamba per poter andare ancora ad affondare, per continuare a ribattere colpo sul colpo e poi andare a provare e a cercare di ovviamente di vincere la partita, ci sono venute a mancare un po' di energie, però a una terza partita in una settimana era anche preventivabile, un po' me l'aspettavo, però al di là di questo ho visto la squadra e il gruppo lavorare sempre bene, continuiamo a lavorare forte durante la settimana, spingere molto durante gli allenamenti, con intensità, con attenzione, poi queste cose dobbiamo riportarle sul campo per 95 minuti, con la stessa organizzazione, mentalità, attenzione, cura del particolare, del dettaglio, nelle due fasi di gioco, nella fase di possesso e nella fase di non possesso, dove diventa determinante ogni singola situazione, ovviamente, visto che siamo nel finale di campionato. Paolo Caselli. Buongiorno mister, presumibilmente la Fiorentina dovrà fare la partita contro il Bologna, perché è la squadra che ha più bisogno di punti. Il Bologna ha dei giocatori veloci, Barro se giocherà a Orsolini, quindi il centrocampo Viola dovrà essere assolutamente pronto e sarà questa una delle chiavi con cui affronteremo il Bologna? Noi rispettiamo le caratteristiche degli avversari, come è giusto che sia, perché Bologna, sì, a Barro, a Orsolini, ma anche Scovolsen, anche Palasio, anche Sansone, anche a tanti giocatori, Soriano è bravissimo negli inserimenti, a tanti giocatori che ti arrivano anche da dietro, con qualità, con velocità, e quindi bisognerà fare una partita molto organizzata sotto l'aspetto tattico e nello stesso tempo però andare ovviamente come dobbiamo fare, come è stato nel nostro modo di giocare, di apprezzare, di fare, di approcciarci, di andare a ribattere e andare a fare le nostre cose che prepariamo durante la settimana, quindi ci stiamo preparando a una partita giusta in tutte e due le fasi, contro un avversario, come dicevi bene, pericoloso nelle ripartenze, quindi ci vorrà grande attenzione nelle preventive, grande attenzione nella tattica individuale, grande attenzione nel posizionamento preventivo nel momento in cui siamo in fase di transizione negativa, e quindi c'è da lavorare bene, con concentrazione per 95 minuti. Flavio Nissanti. Ciao mister, buongiorno. Buongiorno. Sembra essere uscito dai titolari Esteric, è un problema tattico, mentale, di condizione fisica, c'è gente che sta meglio di lui? No, no, è sempre entrato, ma in questo momento in mezzo al campo abbiamo Buonaventura, Ambarabat, abbiamo Castrovilli, abbiamo Eseric, in questo momento magari stanno giocando, stanno molto bene anche gli altri compagni e quindi poi nelle valutazioni, ripeto, io come parlo con i ragazzi, ho sempre in mente una prima partita e una seconda partita, e quindi a volte magari può essere utile Eseric dall'inizio, a volte può essere ancora utile, molto utile sia lui che Caléon, che questi giocatori qui, nel momento in cui devi ancora ulteriormente forzare la partita, e andare ancora a incidere con una qualità importante, velocità, e negli ultimi 40-35 metri con giocatori freschi che entrano e possono ancora imprimerti una spinta maggiore nell'andare a cercare e ricercare i tre punti, quindi in questo senso da questi ragazzi qui mi aspetto grande partecipazione, perché ci devono dare, ci possono dare vantaggi, sia dall'inizio ma anche in corso. Pasquale Marcantonio Buongiorno Ministro, volevo chiederle anche sulle condizioni e soprattutto sulla concentrazione di Vlaovic in questi giorni, nonostante le continue voci di mercato, su rinnovo, insomma come sta procedendo il suo lavoro? No, Dusan è concentrato sul lavoro, come un ragazzo che si sta impegnando molto, è concentrato su quello che deve fare, questa è una stagione importante per lui, per la Fiorentina, non c'è l'io, c'è il noi, lavora da gruppo, lavora da squadra, sta continuando a lavorare con umiltà e questo deve continuare a fare nel suo percorso di lavoro, per continuare a crescere, continuare a migliorare ogni giorno al campo, ogni allenamento e trovare quella continuità, forza mentale, perché non è facile anche, perché quando fai bene ci può essere un attimo di appagamento, di rilassamento, invece, come dico sempre, bisogna stare sul pezzo, sempre spingere, perché la partita che ti aspetta è sempre quella dopo, quella che è passata non conta più nel calcio, conta quella che dovrà arrivare e lì dovrà andare ancora a dimostrare che è un attaccante forte, importante, lui come tutti i suoi compagni e quindi in questo senso ci aspettiamo ancora tanto e sa che il percorso è questo, è stato intrapreso e su quello va battuto il ferro. Mario Tenerani, ultima domanda. Sì, grazie Beppe, volevo farti proprio una domanda che riguarda te come allenatore, tenendo in considerazione alcuni fatti prima di farla, la prima è che con la Maglia della Fiorentina, credo che tu abbia, senza tema di smentita, scritto le pagine più belle della tua carriera dal calciatore, per la tua stessa missione Firenze, la tua seconda casa dove Ascole, dove sei nato, hai sempre avuto un rapporto fortissimo con i tifosi viola, tra l'altro sei tornato molte volte l'avversario e la Fiesole per esempio ti ha sempre salutato con grande calore. Ecco, mettendo insieme tutti questi particolari e pensando che sei atteso a un finale di stagione molto difficile, posso chiederti se questa d'allenatore è l'avventura in assoluto più difficile della tua carriera fino ad oggi, proprio perché nel mezzo ci sono anche tutti questi fattori che definirei non secondari ma molto importanti, grazie. Guarda, mi è successo lo scorso anno quando sono arrivato, quando sono stato chiamato, perché sapevo che non era una situazione ovviamente di classifica facile, di situazione in generale facile, da ribattare, da rimettere in, diciamo, tra virgolette in sesto. Mi è ricapitato ancora quest'anno a un certo punto di ricevere di nuovo la chiamata per poter venire a dare una mano e a fare un finale che sicuramente si presentava con un calendario non facile, difficile, una situazione particolare all'interno del gruppo, della squadra, a livello psicologico, mentale, oltre che no, da lavorarci sopra. E quindi è chiaro che c'è pathos in questo senso, perché quando sei affezionato ancora di più non c'è solo la parte professionale, entra anche il cuore, entra anche l'affetto di tutti e senti ancora di più questa cosa. Però devo nello stesso tempo restare concentrato, fare il mio lavoro, cercare di farlo al meglio e cercare con i ragazzi e con la squadra, con tutti insieme, con la società, di portare a casa un risultato importante, perché ovviamente ci sono delle stagioni che prendono una piega di un certo tipo, a volte senza neanche una spiegazione, ma non succede solo, succede anche da altre parti, è successo e quindi succede, lo vediamo, non ci sono tifosi allo stadio, la pandemia, il coronavirus, la preparazione non fa, se andiamo a ricordare tutte le cose che abbiamo subito in quest'ultimo anno e mezzo, sicuramente cose che non sono normali di questo nostro lavoro, però dobbiamo affrontarle, dobbiamo affrontarle a testa alta, sapendo che è un momento importante, ma nello stesso tempo che se c'è una situazione negativa va ribaltata, va ribaltata col cuore, col coraggio, con organizzazione, mentalità, atteggiamenti, comportamenti giusti, in campo, fuori e questo che chiedo sempre ai miei ragazzi è di portare sul campo questi valori, per onorare al meglio la maglia viola e da ogni partita portare a casa il massimo di quello che possiamo, senza risparmiarsi. Perfetto, grazie, grazie mister, grazie a tutti, buona giornata.